Il pareggio contro Lentella ha avvicinato il Pescara alla Serie C. Serviva la vittoria per la classifica e per dare un segnale che la squadra crede ancora nella salvezza. E invece contro una Entella già spacciata il Delfino non solo ha mancato l'appuntamento a quei tre punti, ma ha deluso tanto come prestazione, specie nel primo tempo. Grassadogna aveva lanciato un monito molto chiaro prima del match. Alla squadra ne sono successe di tutti i colori nelle due settimane segnate dal focolaio Covid, ma ciò non doveva costituire un alibi perché c'era la sola necessità di vincere. E allora, specie in queste situazioni, ciò che deve fare la differenza sono le motivazioni, in teoria molto più grandi quelle del Pescara, e l'atteggiamento che ancora una volta, e per l'ennesima volta, è mancato. Difficile inseguire la salvezza se non si gioca con rabbia e sangue agli occhi, specie quando la partita non si è potuta preparare in maniera convenzionale. Se si guarda in faccia alla realtà, solo l'aritmetica tiene in vita il Pescara. Per chi fa ancora professione di fede, o per chi, come il tecnico Grassadogna, per il ruolo che ricopre, deve crederci, sabato c'è davvero la partita del non ritorno al San Vito Marulla contro il Cosenza. Un solo risultato a disposizione? La vittoria, che classifica la mano, consentirebbe al Pescara di agganciare i silani e scavalcarli per classifica vulsa, e, nella peggiore delle ipotesi, di restare in scia a quella reggiana, che poi giocherà all'Adriatico Cornacchia, martedì prossimo. Il Pescara, quindi, per sperare, dovrà fare quello che non ha mai fatto finora in stagione, vincere due gare consecutivamente, e poi sperare in un rallentamento dell'Ascoli. Uno scenario di difficile realizzabilità, un po' perché la squadra non sembra credere più all'obiettivo e non ha mostrato l'adeguato mordente, un po' perché la lista degli assenti sarà ancora lunga, con bocchetti e tabaneri da ricondizionare per stare al termine usato da Grassadonia, le defezioni certe di Drudi, Balzano e Memusciai, i dubbi legati a Sorensen, Maestro e De Sena, e i positivi al Covid. Nelle prossime ore si attendono novità per capire chi potrà tornare a disposizione. D'altro canto, il verdetto della eventuale retrocessione non arriverà comunque a Cosenza, perché anche nello scenario peggiore, di sconfitta al San Vito Marulla e vittoria dell'Ascoli sull'Empoli, il Pescara andrebbe a meno 6 dai Silani e a meno 11 dal Picchio, e con 9 punti ancora a disposizione non ci sarebbe ancora l'aritmetica, che invece potrebbe arrivare con la Reggiana. In pratica la gara di Cosenza dirà se quella del 4 maggio sarà la gara della sopravvivenza o quella dell'amaro verdetto.